Ben tornato popolo di Youtube! Ben tornato in un nuovo video del vostro Budi! Oggi, settimana nazionali, quindi continuiamo con il guardare e commentare le partite che io ho giocato ai nazionali. Penso che questa che andiamo a vedere oggi sia la partita più bella che io abbia giocato. Sempre primo match, torniamo indietro, perché ero passato al secondo match, ma torniamo indietro perché questa partita non ve la posso non far vedere. Io combo priest, lui contro l'Warrior, odd. Attenzione, partita dai piccoli vantaggi, blef, favolosa. Penso sia la partita più bella che io abbia giocato ai nazionali. Andatela a vedere. Siamo? Andiamo? Andiamo? Siamo pronti? Siamo pronti? Vai! Bene! Allora, io combo priest contro l'Warrior. Contr'Warrior, odd. È problematico per me, perché mette tanta armor e se ne mette troppa la mia combo non funziona. O almeno ho bisogno di fare un minion davvero grosso. Quindi se stacca tipo 20 di armor potrebbe diventare un problema. E poi ha tutta roba per spaccarmi i minion, perché ha due brawler, due assalti avventati, due slam. Tutta questa roba che spacca i minion. Quindi il pericolo è che io rimanga senza risorse. Di contro, lui è un mazzo che pesca poco. E quindi c'è il rischio che rimanga senza carte in mano. O comunque con carte solo inutili in mano. Quindi l'obiettivo è, con il combo priest contro l'Warrior, mettere in situazioni di board che non siano troppo punite da su E.A.O.E. Ma nel frattempo minacciare qualcosa. Togliergli l'arbor e minacciare qualcosa, anche se non ci sia in mano. Perché l'avversario deve sempre avere paura che io possa avere la combo in mano. Quindi doppio divine e inner fire. La nostra mano di partenza è sicuramente buona. Abbiamo l'elementale e i power shield, quindi cominciamo a mettere già qualcosina. Una 2.5 che non viene tenato dal suo warg nella 3.3 rush a costo 3. Che sappiamo lui avere nel mazzo. E comunque gli togliamo qualcosina di armor. Continuiamo così. Il nostro turno è abbastanza chiaro adesso. Cioè non è abbastanza chiaro perché power shield non sappiamo dove metterla. Penso di metterla esatto sulla 2.5 in modo tale che diventi 2.7. E gli tolga la possibilità di fare shield slam sull'elementale. Peschiamo inner fire. E il dubbio è, lo facciamo 7.7 o no? Sappiamo che però lui ha i gufi nel mazzo. E i gufi nel mazzo potrebbero essere un problema. Quindi decido di... Tredare... di buffare quello lì e di non fare inner fire. Ok? Ci penso un po' però alla fine... Il pensarci un po' qua penso sia un errore perché lui potrebbe aver capito che io ho inner fire in mano. Ma comunque... Mantengo una situazione di board buona. Lui mi fa il worgen quindi mi mandate a dare l'accordito e mi fa pescare una sola carta. Il che non è brutto. Però io pesco chierica. Ok. Situazione numero 1. Qua si possono fare due giocate. Una, fare drago. Per mettere più board. La seconda è fare chierica per cominciare a pescare. Perché noi la combo... Quindi doppio divine. E inner fire la dobbiamo pescare il prima possibile. O comunque... Fai pensare a lui, a Riki, che noi la combo ce la possiamo avere in mano. Quindi dobbiamo avere tante carte. Quindi chierica e si pesca. In più tengo una 2-6 danneggiata quindi potrei pescare anche il turno dopo. Lui pesca lo strellone. Attenzione. Fa lo strellone e non fa la 3-3. Qua se lui avesse avuto la 3-3 mi avrebbe dato noia sicuramente perché mi avrebbe tolto la chierica. Quindi io so benissimo che da quello strellone è uscito Darius. Quindi cerchiamo di giocare la torna Darius. Molto semplicemente. Non è che ci possiamo giocare molto perché non abbiamo taunt per proteggere la chierica. Quindi l'alternativa è continuare a pescare e noi continueremo a pescare. Attacchiamo con la chierica, gli togliamo uno di armor e mettiamo il loot order. Sappiamo che ci arriva Darius, sappiamo che spaccherà la 1-3. Però guardate un po', se lui ci spacca la 1-3, noi dopo abbiamo Duskbreaker per togliarlo Darius. E comunque continuiamo a mantenere la pressione. Perché la 2-7 continua ad andare faccia, gli togliamo un po' di armor e rimane una buona situazione per noi. Prende la carta con il rush, quindi lo sappiamo che arriva Darius. È arrivato Darius e il nostro turno successivo è... È lampante. Trade, Duskbreaker e cura, direi. Mettere il secondo elementale è un po' troppo aggressivo. Ci può servire per un turno incredibile. Il secondo elementale è sempre bene tenerselo quando giochi combo priest, se è possibile. Ci penso un attimo, ma alla fine il turno è quello lì. Ho tante carte in mano, quindi ho pescato comunque. Ed è una cosa importantissima contro Counter Warrior. Perché se tu perdi l'iniziativa sul board e non hai tante... E perdi la possibilità di pescare. Alla fine finisci tu le risorse e non lui. Ed è un grosso problema. Noi invece di carte ne abbiamo tante in mano. E la partita diciamo che sta andando abbastanza bene. È vero, lui è ancora 33, però... Poteva andare decisamente peggio. Ok, lui fa Stonehill. Ogni carta del suo masso ci dà noia. Questo è... Sappiatelo, è una cosa che... Purtroppo è così. Ok, lui fa Stonehill e basta. Va a 7 di armor che comincia a diventare tanto. Io pesco un secondo drago. Allora, qua di turni ce ne sono abbastanza. Potrei fare la cabalista. Per togliere la 1-4 e picchiare 7 danni. Però se io picchio 5 danni e va a 2 di armor. E poi fai hero power, assalto avventato. E mi toglie tutto lo stesso. A questo punto il modo migliore per giocare a Torino Assalto Avventato penso sia mettere la 4-9. Non è che gioco a Torino Assalto Avventato perché se vuole pulisce lo stesso. Però la 4-9 minaccia l'Ital. Perché se io avessi in mano doppio Divine Spirit e Inner Fire quella 9 è una 36-36. Quindi lui deve stare attento. Lui in questa situazione deve stare attento e stare attento a quel diago lì. Infatti lui fa Sentinella e Brawl. E io sono relativamente contento. Ho qualche out buono. La 4-9 è la migliore, la 2-7 è la seconda migliore. Esce una 1-1. Va bene così, nel senso è stata una Brawl onesta. Una Brawl è uscita. Quindi la mettiamo da parte e ce lo ricordiamo. Attacchiamo con la 1-1 ovviamente. E continuiamo a mettere un po' di pressione. Probabilmente con il Diago, probabilmente con l'Uthroider. Per cerchiamo di rimettere la stessa situazione di prima. Di nuovo 4-9. Di nuovo minaccia l'Ital. Cioè non è... Non è semplice da giocare per lui, per Ricky. Perché quella 4-9 è sicuramente fastidiosa. Deve gestirla. Per quanto lui sia a 36 vite, lui deve gestire quella 4-9. Perché io potrei fare cose pazzesche. Poi che io ce l'abbia in mano o no, conta poco. Vediamo un po' cosa ci fa lui. Turno 8. Ancora la coin. Quindi potrebbe anche fare turno 9. Ma non credo che abbia niente di particolarmente buono a turno 9. Solo Baku e King Mosh a turno 9. Fa il senzavolto, quindi me lo copia. E silenzia. Vedete, me lo silenzia per evitare di essere ucciso. Cioè, molto semplicemente. Ora, lui mette la 4-9. Il nostro turno qua è molto importante. Perché togliere quella 4-9 è abbastanza importante. Io ho accolito Kabbalist, che è ottimo perché rubare quella 2-9. Mi minaccia ancora. Cioè, gli propone una minaccia. Perché 9 di difesa a lui dà immensa noia. Quindi, andiamo sicuramente per accolito Kabbalist. Certo, utilizzare accolito Kabbalist adesso è decisamente brutto. Perché è una situazione scomoda. Però, perlomeno, adesso da Assalto Avventato Sono Protetto, da Brawl e da Whirlwind Mosh no. Però, d'altronde, dei rischi me li devo prendere. Spero non abbia Whirlwind Mosh, che è addirittura peggio. Però, insomma, il turno Neo era sicuramente forte. Lui fa Coin, Whirlwind Mosh. Noi peschiamo accolito, per fortuna. Perché se non avessimo pescato accolito qua, probabilmente la partita era persa. Pesco accolito e faccio accolito. Cosa facciamo oltre all'accolito? Si potrebbe mettere la Matriarcha per mettere un po' di board. Penso sia la cosa migliore. Perché la Matriarcha, al momento che lui non ha armor, è anche fuori da Shieldslam. Quindi, non avendo Shieldslam, lui sicuramente non metterà la Matriarcha. E questo mi permetterà al turno prossimo di fare Kirikakuro e mettere un bel po' di board. A meno di Brawl, però Brawl difficilmente lui farà Brawl su questo board. E la 4-9, di nuovo, potrebbe essere un problema per lui. Perché io potrei, come sempre, avere un lit all'improvviso. Fa Shieldblock. E lo Shieldblock, per me, era brutto perché pensavo avesse Slam. Per fortuna. Per fortuna. Non ha Slam. Non ha Shieldslam. E questo è importante perché ho appena capito che non ha Shieldslam in mano. E fa un turno relativamente debole. Attenzione perché il sapere che lui fa un turno relativamente debole, mi piace. Se io avessi avuto qua due Divine Shield e Mass Dispel, avrei avuto anche Little. Perché Mass Dispel, tolgo tutti i Taunt, 30, doppio Divine Spirit e Inner Fire. Poteva essere Little. Sempre con l'elementale, perché senza l'elementale, però insomma è una combo da un milione di carte. Adesso, io voglio sicuramente pescare, perché voglio andare a pescare i miei Divine Spirit. Quindi, Chierica sicuramente. Quindi, trade, trade. E curo quello che è andato a te a dare lo Stonehill. E vado a pescare. Pesco, cosa pesco? Pesco un Alchimista. L'Alchimista, alla fine lo faccio. E finiva il tempo. Penso sia un piccolo mistake. Non penso fosse utile l'Alchimista lì. Anche perché so che qua, lui deve fare o Brawl o Assalto Alventato. Per forza, perché quella 4-9 lui la deve togliere. Non avendo Shield Slam, so che però potrebbe avere sia Reckless Flyer che Brawl. Quindi, Reckless Flyer ne ha ancora due nel mazzo. Non avrei dovuto giocare Alchimista. L'Alchimista muore. E lui fa armor. Questo turno per lui è molto forte. Purtroppo è molto forte perché ha messo Harrison Jones. Ha spaccato tutto e adesso l'iniziativa ce l'ha lui. Io non è che possa fare molto qua. Metterò Drago e vado a prendere un Divine Spirit perché tanto è quello che devo fare. La speranza è che mi rimanga un Minion e riesca a picchiare il sodo. Ok, Drago e prendo il primo Divine Spirit. Però, insomma, la partita la vedo verso brutti binari, brutti binari. Brutti, brutti. Lui picchia sul Drago per più che altro togliermi vita perché ha paura. Lui, vedete che ha paura di essere pruniti. E qua fa Baku. Attenzione, Baku è un turno molto debole perché non mi toglie il primo Divine Drake. Qua io potrei avere l'Ital. Nel senso che, guardate la mia mano. Se io faccio Mass Dispel, cioè faccio l'Elementale, Mass Dispel sono 5, 6, 7 di Divine Spirit, 8 dell'Auto Divine Spirit, la cura sono 40 danni. Cioè, se io qua toglie il Divine Spirit, ho l'Ital, ed è un out su 6, che comunque non è poco. È un out su 6 che probabilmente va giocato. È vero, gioco Mass Dispel e mi tolgo la possibilità di togliere il Juntaunt, però il suo turno è stato molto debole. Quindi, alla fine, alla fine potrei avere una chance anche senza pescare Divine Spirit. Non pesco Divine Spirit, pesco Shadow Vision, che mi dà il terzo Divine Spirit, è fondamentale prendere il terzo. E qua non faccio niente, cioè non gli toglierò quelle 4 di armor e basta. Spero che lui non faccia nient'altro, perché il turno suo di Baku è stato davvero brutto. Quindi, suppongo che lui abbia poco e nulla in mano. Ora, se mi rimane quella 2-3, e io pesco un Elisir o Divine Spirit, e su 5 carte left, avere due Elisir e un Divine Spirit, non è male, perché è un 3 su 5. Quindi, se mi rimane anche solo la 2-3 e lui non mette Taunt, io avrei anche l'Ital. Quindi, vediamo un attimo, fa l'Hero Power, il che non è un problema, fa la Melma, il che non è un problema. E basta, e basta, io toglierò l'Elisir e questi sono incredibilmente 40 danni. Perché quello era di un Telemental, è appena diventato un 40-40. Divine Spirit, Divine Spirit, Divine Spirit e Inner Fire. Cioè, io penso sia stata Clamor Roll. Una sfangata così, una partita così, è epica. Epica, perché io avevo finito tutto. E certo, lui non ha pescato i due Shield Gem, che mi avrebbero dato noia sicuramente. Però la partita, se non è stata gestita molto bene, sia da me che da lui. Perché è vero che lui ha usato spesso le risorse, quando io in realtà l'Ital non ce l'avevo. Però potevo avercelo in ogni momento. Quindi, è questa la cosa interessante del combo presta. Che non è un mazzo forte. Però, obbliga l'avversario a giocare attorno a cose. O all'Ital improponibili. E quindi fa un utilizzo brutto delle sue carte. Bella, 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 bella. E ragazzi, fatemi sapere se questa partita Clamorosa vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e condivide. Fate cose pazzesche, frizzantine. Noi ci vediamo tutti i giorni, come sempre, su Twitch. Dal lunedì al venerdì, ogni video, ogni giorno, alle 17. Un video nuovo. Ci vediamo domani. Ciao! Ciao!